Martedì 16 febbraio 2021, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioscoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio BM. Un saluto anche a chi ci sta guardando attraverso la nostra pagina Facebook, attraverso il canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dall'anno sti studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura del quotidiano Il Corriere delle Alpi. Vediamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti nella prima pagina, ecco come si apre l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi. Ovviamente un ulteriore approfondimento in merito alla stagione invernale ancora chiusa dopo il no del Ministro della Salute e Speranza. Questo è il titolo, sci fermo, colpo da 400 milioni, il Veneto chiede rimborsi pieni. Conto salatissimo per gli impiantisti e gli alberghi bellunesi, il Ministro Garavaglia con i recovery investiremo sulla montagna. Ristori no indennizzi, è giusto pagare quanto impianti, albergatori e altre attività hanno perso, dichiara il Governatore Luca Zaia. Il calcolo lo farà Gian Paolo Bottaccini, assessore alla specificità bellunese. Il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha calcolato 4,5 miliardi per la stagione invernale sulla montagna italiana. Per la provincia di Belluno si parla di 4,5 milioni, attesa per il decreto Ristori 5. L'approfondimento da pagina 2 a pagina 6. La proroga le lezioni via web a metà studenti fino al 5 marzo. Zaia siamo cauti. La presenza degli studenti nelle scuole superiori continuerà ad essere al 50% fino al 5 marzo, lo ha detto ieri il Governatore della Regione Veneto, Luca Zaia. Il Veneto è in una situazione di assoluta tranquillità, ma scegliamo la strada della prudenza. La cornice nazionale permetterebbe già di far crescere la quota della DAD al 75%. E sempre a proposito di emergenza sanitaria, Belluno, vaccinazioni per 3.000 prof, la chiamata agli under 55. Al Via Domenica, la vaccinazione contro il Covid per il personale della scuola, l'arrivo di una buona quantità di flaconi a AstraZeneca ha permesso all'usla numero 1 Dolomiti di rivedere l'organizzazione del piano vaccinale. In provincia, su 5.000 docenti, 3.000 rientrano nella fascia di età in cui può essere utilizzato il siero inglese. Il neoministro esordio alla UE per Franco, consapevole delle sfide, debutto a Bruxelles per il ministro bellunese dell'economia Daniele Franco, accolto con calore dall'Eurogruppo. L'approfondimento di Bresolin a pagina 10. E la foto di copertina riguarda sempre la stagione invernale in provincia di Belluno, uno scatto di un rifugio accompagnato da questo titolo. Beffa per i rifugi, abbiamo aperto, ora ci tolgono clienti a fare l'approfondimento a pagina 6. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpe ed entriamoci al suo interno. Pagina 2, il governo alla prova. Paura varianti, presto contagi al più 50%, scontro sul lockdown e sulle scuole. L'Istituto Superiore di Sanità, l'ISS, innalzare subito le difese. Scienziati divisi con centrodestra e regioni frenano sullo sci polemica Lega Speranza. Ecco alcune dichiarazioni da parte di Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute. Il mio è un parere scientifico, se non sono utile, pronto a farmi da parte. Roberto Burioni, virologo dell'Università San Raffaele. Con le chiusure si guadagna tempo, ma la soluzione è solo il vaccino. Andrea Crisanti, virologo e accademico. Le zone rosse non bastano più, non si può andare a sciare o al ristorante. Mentre gli organismi scientifici nazionali e internazionali chiedono all'unisono misure più restrittive, i partiti del centrodestra, ma non solo, se la prendono con gli scienziati Cassandra e il CTS, mostrandosi poco propensi ad assecondare nuove chiusure, che almeno in forma di zone rosse locali, però ci saranno perché le proiezioni in mano agli esperti del Ministero della Salute indicano un raddoppio dei casi di variante britannica in Italia ogni settimana. In pratica nell'arco di tre, massimo quattro settimane, il virus in Italia parlerà quasi esclusivamente inglese e questo si tradurrà in un aumento del 50% dei contagi, ma anche della mortalità, perché il Nervag britannico, l'equivalente del nostro CTS, indica un aumentato rischio di ospedalizzazione e morte dovuti alla variante del 40-60%, specifica Neil Ferguson, epidemiologo e consulente scientifico di Boris Johnson. Questi numeri, a proposito dell'emergenza sanitaria in Italia, 7.351 i nuovi casi di contagi in Italia, 3.317 in meno rispetto agli 11.065 di domenica, 4,1% il valore del tasso di positività, il numero dei tamponi positivi su quello totale degli effettuati, 258 il numero dei morti registrati lunedì, dall'inizio della pandemia 93.835 le vittime in Italia, 2,7 milioni di contagiati dall'inizio della pandemia, esattamente sono 2.729.223 dati riferiti al nostro paese. Pregliasco, qui rischiamo una nuova ondata, il pericolo sono gli asili e le scuole elementari, il virologo impossibile, una chiusura generalizzata perché scatenerebbe la rivolta sociale. Queste alcune sue dichiarazioni sullo sci, decisione giusta ma la tempistica è stata improvvida, bisogna aumentare subito la produzione di vaccini, anche quella per conto di terzi. E a proposito di emergenza coronavirus, il governo la prova, il governo per ora niente restrizioni, arcuri verso un ridimensionamento, il meccanismo del semaforo, le zone rosse in aree circoscritte, e per ora funzionano, nessun cambio di programma. L'approfondimento in Veneto, il Veneto reclama indennizi pieni, il governo investiamo sulla montagna, vertice tra l'assessore Bottaccine e i ministeri Garavaglia e Gelmini, attesa per il decreto Ristori 5, ma la bozza va ricalibrata. L'approfondimento è di Francesco Dalmas, Ristori no indennizi, è giusto pagare quanto impianti albergatori e d'altre attività hanno perso, dichiara il governatore Luca Zaia. Il calcolo lo farà Giampaolo Bottaccini, in veste di assessore alla specificità bellunese. Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, ha calcolato 4 miliardi e mezzo per la stagione invernale sulla montagna italiana. Ritengo, puntualizza Bottaccine, che la provincia di Belluno possa purtroppo aver perso tra i 400 e i 500 milioni di euro suo il compito di fare un po' di conti, con la puntualità con cui tira quelli della protezione civile dopo un'emergenza. Ieri pomeriggio Bottaccini ha fatto il punto della situazione in videoconferenza con i ministri Garavaglia e Maristella Gelmini degli affari regionali. Dopo aver ascoltato il quadro della situazione da parte del ministro Garavaglia, è stato chiarito, riferisce l'assessore bellunese, che è necessario quantificare al più presto gli indennizi per garantire la copertura dei danni generati dalla chiusura degli impianti. Continere per il turismo bellunese, lo stop costerà più di 400 milioni. Anef e Confcommercio fanno i primi calcoli e guardano a Pasqua, vale il 10% della stagione. Questa è la dichiarazione di Luca Dal Poz, direttore di Confcommercio. Gli albergatori mi hanno tempestato di telefonate, si sono visti annullare decine di prenotazioni per i prossimi giorni. Ed ecco il comparto in cifre, 17 le imprese scistiche in Veneto, in gran parte nel bellunese, 80 le impianti di risalita attivi sul territorio, 60 i milioni di fatturato del comparto lo scorso anno, mezzo miliardo con l'indotto, 1.000 i dipendenti diretti, 10 milioni il costo per la realizzazione di due chilometri di telegabina, 500.000 il costo di un battipista. Le spese corrono anche da fermi, 100.000 euro gettati dalla Gudo. I conti di Auronzo d'inverno vanificano l'investimento per gli agonisti, solo per il carburante domenica sono stati spesi 10.000 euro. Abbiamo ottenuto 5 dipendenti per essere pronti, ci sentiamo traditi, fanno bene i colleghi che hanno aperto. Questa è la dichiarazione di Fabio Davia, presidente della società Auronzo d'inverno. Ma continuiamo con l'approfondimento del Corriere delle Alpi, riferito alla stagione invernale nel bellunese. Abbiamo riaperto solo per gli sciatori amarezza e rabbia nei rifugi dolomitici, la ristorazione può lavorare, ma in quota ci sono pochi altri clienti. Lo sfogo, noi rispettiamo le regole, ma non veniamo rispettati. E questo è uno scatto perché ci sta guardando da Facebook o YouTube che ci porta al rifugio Bristot sul Nevegal. Sono tante le strutture che si sono attrezzate per la riapertura dello sci. Vacanze di carnevale dal Comelico alla Gordino. Anche ieri molti turisti, un approfondimento quindi in merito comunque alla presenza di turisti nel territorio bellunese, anche se non è possibile e fattibile sciare. Le reazioni beffati i mille maestri di sci per Roma non esistiamo. Siamo a pagina 8. Risco sanitario, altro approfondimento del Corriere dell'Alpi, in questo caso riferito alle scuole superiori. Prolungata sino al 5 marzo, la didattica a distanza al 50%. Le classi si alternano ogni settimana. La trattativa vaccino anti-covid, arrivate due offerte per 12 e 15 milioni di dosi. Il Veneto chiede al commissario Arcuri di procedere all'acquisto con altre regioni. operazione immorale, presa nello stesso modo pure la macchina per crisanti. Questa è la dichiarazione di Luciano Flor, direttore generale della Sanità Veneta. Variante inglese, isolata a Natale nel Veneto, è facile per i scienziati consigliare lockdown. Questa è la dichiarazione del Presidente della Regione Luca Zaia. E adesso invece il bollettino riferito all'emergenza sanitaria in Veneto, salito a 288.164 il numero delle persone guarite, in questo caso in Veneto, continua il calo dei valori dell'epidemia indicato dal bollettino emesso dalla Regione attraverso Azienda Zero. Ieri pomeriggio alle 17 risultavano 321.820 positivi dall'inizio, un anno fa, della pandemia, 231 in più delle 17 di domenica. E la pandemia nel belunese, pagina 9. Da domenica la vaccinazione ai docenti. Sono circa 5.000 i lavoratori belunesi della scuola, ma soltanto 3.000 potranno essere immunizzati con AstraZeneca. Prenotazioni aperte fino a giovedì sera, somministrazioni in modalità drive-in. E gli ottantenni in attesa del vaccino. Riabbraccerò mio nipote, Antonio Mongillo. È uno dei primi ad aver ricevuto la convocazione. Dovrà presentarsi il 27 febbraio a San Martino per la profilassi. Il virus nei comuni ospitale, tre nuovi casi su 300 abitanti. Così l'incidenza di contagi schizza in alto. E il bollettino riferito alla provincia di Belluno parla di un decesso in 24 ore. Scendono a 512 i positivi, 81 i ricoverati. Pagina 10, il nuovo governo. Una notizia che comunque parla bellunese. Franco, debutto all'UE. L'Italia affronterà le sfide strutturali. La richiesta di Bruxelles basta con i sussidi alle imprese destinate a fallire. L'agenzia di rating Modis. La politica potrebbe frenare le riforme di Draghi. E per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube ecco un grafico che rappresenta il debito pubblico italiano. Vediamo la cifra è i miliardi di euro. Nel 2020 ha raggiunto il picco di 2.562,3 miliardi di euro. Nel 2019 aveva toccato quota 2.409,9 miliardi. Nel 2018 2.380,9 miliardi. Quindi cifre davvero impressionanti. Ripetiamo, nel 2020 il debito pubblico italiano ha raggiunto il dato registrato nel mese di dicembre, quota 2.562,3 miliardi di euro. Lavoro, vertice tra Salvini e Zingaretti. Allarme per Ilva ed Embraco. Confindustria, non spegnere Taranto. PD e Lega stretta sui licenziamenti. Confermati 400 esuberi. Il ministro Orlando consulta sindacati e imprenditori. Il ministro Orlando, il nuovo ministro, al lavoro. E sempre dal nuovo governo, sottosegretari, una raffica di conferme e Salvini vuole il numero 2 al Viminale. Un caso, la riconferma di Castelli al MEF fu molto aggressiva con Franco. De Micheli, io abbandonata dai miei compagni di partito. Ed ecco quindi altri sottosegretari. In questo caso il primo desiderio di Matteo Salvini è piazzare un suo uomo al Viminale e a rimarcare la stretta Luciana Lamorgese. Dovrebbe trattarsi di Stefano Candiani e altri volti che ovviamente rappresenteranno il governo di Mario Draghi. La sfida delle donne alle poltrone di Draghi rovina i sogni avariati, baretta e martella. Il segretario Zingaretti vuole la parità di genere per i sottosegretari in corsa per un incarico Puppato, Rotta, Moretti, Miotto e Salmaso. Pagina 14, strade di Bologna. Giudizio l'ex primo Lanera Bellini. Per la procura sarebbe il quinto uomo dietro l'attentato alla stazione del 1980. Si indaga su una foto dell'epoca e su un falso alibi. Il 16 aprile si apre il processo. Ma continuiamo con le notizie che riguardano la Regione Veneto. Pagina 16, lo Sport System a Montano va oltre la crisi con economia circolare e innovazione. Report di banca IFIS è presentato a cortina ricavi per 6 miliardi e 30 mila addetti. Nuova crescita nel biegno 2021 e 2022. Queste le previsioni dell'andamento del fatturato 2021-2022. È in percentuale di imprese. Possiamo vedere che in questo caso la montagna spinge con un aumento pari al 41%. Trasporti, test anti-covid al Brennero. 40 chilometri di tiri in coda. L'Austria dispone i controlli al valico alla luce delle regole varate dalla Germania. La rabbia dei camionisti. Siamo discriminati. Traffico dirottato a Tarvisio. Ma siamo a pagina 18. Notizie dedicate prettamente alla provincia di Belluno. La sfida della diocesi rinnovare il Duomo sarà pronto per la beatificazione di Papa Luciani. Al via un concorso di progettazione per sistemare gli interni. Attenzione sul presbitero, confessionali e sagrestia. Un bando della CEI finanzia parte dei lavori necessari per adeguare gli spazi liturgici. Patto per le infrastrutture. Tra gli industriali delle Dolomiti, Belluno, Trento e Bolzano commissionato un piano all'Università di Padova. Una mappa dei cantieri per monitorare il presente e programmare il futuro. Tutto questo per la mobilità del post-Olimpiadi. L'intervento di Marcella Morandini, già direttrice della Fondazione Dolomiti Unesco, la conoscenza delle lingue è sinonimo di cultura. Ha fatto discutere il nuovo bando per la direzione della Fondazione Dolomiti Unesco, soprattutto quando tra i requisiti si richiede anche la conoscenza della lingua tedesca. Apriti cielo, il deputato bellunese Dario Bond ha annunciato un ricorso sostenendo che la clausola sia discriminatoria. Sulla questione interviene l'ex direttrice Marcella Morandini. Avrete modo di leggere quindi il suo pensiero in merito. Pagina 20, cura del corpo, shopping e cene. Così rinasce l'ex ospedale civile. Stanno per concludersi i lavori di Filù sopra il parcheggio Caffi. In estate il complesso sarà ultimato. Notizia quindi che ci porta nel capoluogo bellunese. Pronti a trasferirsi la Fenice, Sisley, un negozio di scarpe, un'estetica e GS. Il progetto di team per il capoluogo Internet. La fibra ultraveloce raggiungerà 15.000 case. E in tribunale è perseguita una collega condannato a sei mesi. Notizia quindi di cronaca giudiziaria. Continuiamo con la lettura del Corriere delle Alpi. In questa edizione troverete anche un inserto Nord-Est Economia. Per questioni di tempo non abbiamo la possibilità di leggerlo. Andiamo oltre quindi fino ad arrivare a pagina 21. Tante fotografie in questa pagina. Cioccolato artigianale con Nina APS. L'azienda darà lavoro a donne in difficoltà. Bruno Servestrel è la mente del progetto della neonata associazione. Abbiamo individuato i locali a Castion. Ora cerchiamo finanziamenti. Vogliamo offrire nuove opportunità alle vittime di violenza che si rivolgono all'associazione Beluno Donna. L'obiettivo è fondare una co-op sociale. Se il nostro sogno dovesse svilupparsi, daremo un futuro a 21 bellunesi. Non saremo soltanto una cioccolateria. Gli scarti del cacao saranno utilizzati per creare saponi e cosmetici naturali. Questa è un'intervista firma di Francesca Valente a Bruno Servestrel che vediamo in questo scatto. Pagina 23. Lavoro per i disoccupati e contributi per la casa. Sostegno ai nuovi poveri. Il comune e la Caritas lanciano il progetto El Panco per aiutare chi è in difficoltà. Fondazione Cari Verona lo finanzia con 75 mila euro. Pagina 24. La tragedia. Muore incastrato nel tombino del ranch. Santa Giustina piange Sandro Mondo. Il pensionato di 74 anni, grande appassionato di equitazione, è stato trovato senza vita domenica sera nella sua fattoria. L'articolo a firma di Stefano De Barba. È morto nel suo ranch in quell'angolo di campagna dove accudiva a compassione i suoi animali mentre stava lavorando nel tombino dell'abbeveratoio a causa di un malore o di un incidente è rimasto incastrato nel pozzetto pieno d'acqua. Saranno gli accertamenti sanitari a chiarire se sia morto per un improvviso malore o per annegamento. Sandro Radamondo, 74 anni, pensionato di Carfai con una passione grande per i cavalli e per la vita all'aria aperta. Domenica era andato come sempre nel suo terreno di Via Arnea ad accodire il suo cavallo, i cani e gli altri animali da cortile e fare qualche lavoretto. Mentre stava lavorando, sporgendosi nel tombino dell'abbeveratoio secondo la ricostruzione tracciata dai carabinieri si è consumata la tragedia che non ha avuto testimoni. La piccola fattoria è a qualche distanza dalle abitazioni di Via Arnea. È stato un vicino a scoprire quello che era successo mentre sul posto arrivavano anche i familiari erano circa le 21.30 e la richiesta di intervento lanciata ai soccorritori ha fatto intervenire subito in Via Arnea i carabinieri delle stazioni di Santa Giustina e di Sedico. E vediamo in questo scatto appunto la vittima e Sandro per tutti detto Sandro Mondo. Se n'è andato l'amico di tutti sui social il cordoglio del paese il sindaco Minella era sempre presente a tutte le attività associative. Pagina 25 Feltre raccolti già oltre 1000 euro per la stanza degli abbracci le parocchie cittadine vogliono donare la struttura alla casa di riposo brandalise anziani e familiari potranno tornare ad avvicinarsi separati da un telo trasparente. Sanità a Feltrina la chirurgia vascolare debutta sulle nuove sale operatorie il lutto venerdì addio allo scrittore insegnante Tony Zamengo. Pagina 26 Notizia ancora dal Feltrino all'anno di Piave gestione di Maiga Valdumela parte la gara per l'assegnazione il comune completa l'affidamento delle strutture per l'allevamento in quota il vice sindaco Zancaner per Campa Ronetta e Valderoa bandi di un solo anno l'amministrazione darà la priorità ai giovani allevatori sotto i 40 anni. Pedavena parole non ostili sul web giovedì un incontro sulla comunicazione Quero Vass no ai fondi comunali alle ditte troppa burocrazia per l'ente e sempre dal Feltrino Pedavena venerdì in consiglio il bilancio di previsione. Ponte nelle Alpi pagina 27 del Corriere delle Alpi Decathlon l'apertura ad aprile subito una ventina di assunzioni il manager Zan ha definito ieri le ultime pratiche amministrative in municipio nessun ritardo è nostra tradizione inaugurare con l'arrivo della bella stagione e in questo scatto per chi si sta guardando da Facebook o YouTube un momento dell'incontro di ieri mattina tra l'amministrazione e il dirigente Decathlon Massimo Zan sotto coperta 3 musica narrazioni e riflessioni per non essere soli a casa primo evento online alle 18 dedicato ai bambini tutto questo organizzato dalla biblioteca civica di Ponte nelle Alpi e sempre da Ponte nelle Alpi il comune assume un istruttore contabile Roe Alte dice addio a Patrizia la malattia l'ha vinta a soli 55 anni era nota anche nel mondo del calcio essendo moglie di Mauro De Bon cordoglio dell'AC sedico che si unisce al dolore dello storico capitano L'Ungarone riprendono il 21 con una ciaspolata le attività del CAI da Borgo Valbelluna pagina 28 a Cicile tra Franco ed Inca la situazione è drammatica i 300 lavoratori della fabbrica bellunese hanno scritto ai due ministri trichianesi ci rivolgiamo a loro per il legame morale che hanno con il territorio salvateci sedico il castelliere di Noal sarà l'Unione Montana a curare le manutenzioni e ancora da Limana il mondo del volontariato assegna a Nicola Ancillanni il premio San Valentino pagina 29 weekend con il pieno l'alto agordino vuole guardare oltre gli operatori turistici si rifiutano di gettare la spugna la voglia di outdoor che vediamo ci sprona a proseguire innamorato di Agodo Giorgio se n'è andato con San Valentino 82 anni era conosciutissimo nella valle specie per aver recuperato la veccia popa parliamo di Giorgio Favero venuto a mancare appunto nella giornata di San Valentino pagina 30 impegno per la Casa Romana sarà il fulcro del turismo l'assessore Zandonella illustra un progetto che mira ad ampliarne la visibilità sotto un'ala del municipio c'è una parte della villa ancora da portare alla luce notizia di spalle cortina open cortina tecnologia digitale e opere pubbliche avanti in sinergia promossa nel 2018 da Sant'Andrea è stata confermata anche da Tognolo ambiente formazione servizi turismo il covid non frena l'attività della Cadore SCS soddisfatta la Presidente Buzzo risposte sempre adeguate alle esigenze del territorio ora grande fiducia nel 2021 per quanto riguarda invece lo sport ovviamente l'approfondimento ci porta a cortina la scifre rincanta le azzure a secco fra i maschi ancora austria con Sfarz Italia ancora senza medaglie dopo le due combinate nel giorno in cui il mondo applaude la fuoriclasse americana Brignone è delusa ma ho altre tre gare Michele Ginis rende onore alla scifrin Micaela ci ha fatto vedere come scissia sul ghiaccio Bassino in slalom faticava a stare in piedi ma le migliori hanno dimostrato il contrario Santo Stefano l'argento di Petra Vlola è anche un po' del comelico l'allenatore Matteo Baldi Sarruti fa parte dello staff capitanato da Livio Magoni siamo molto felici questa medaglia era il massimo che poteva ottenere i radioamatori sono già 1500 i collegamenti con il resto del mondo sempre in merito ovviamente a Cortina 2021 e ancora Cilina Seghi il trionfo negato al mondiale fantasma del 41 l'oro cancellato dalla guerra la sciatrice toscana il 6 marzo compiera 101 anni ancora arrabbiata c'erano tutte le più forti che in giustizia derubricare quella gara Sialpino Coppa Veneto Elia De Zanna domina sulle nevi del comelico grande prova in slalom dell'atleta dello sci club Cortina fra le donne secondo posto per Francesca Antonia Trentin Capello occhio al porto ma ora la Juve ha idee chiare notizie di carattere nazionale l'analisi dell'ex allenatore una Coppa dei Campioni vinta nel 94 con il Milan passiamo alle previsioni del meteo prima di salutarci ecco il tempo che ci aspetta per la giornata di domani tempo ancora stabile con cielo da sereno al mattino a poco parzialmente nuvoloso nel corso della giornata per l'addensarsi di nubi medio-alte specie sulle zone montane settentrionali precipitazioni assenti venti in pianura deboli occidentali poi in rotazione a deboli orientali dal pomeriggio in quota tesi da nord-ovest dalla sera in attenuazione fino a moderati da ovest mare da poco mosso a quasi calmo temperature in leggero in generale aumento più sensibile in montagna specie sulle dolomiti è davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluna e vi ricordo l'appuntamento via streaming in replica questa sera alle 20 domani mattina a luna sempre oggi l'appuntamento invece alle ore 18 in diretta dal canale youtube dell'associazione bellunesi nel mondo non perdetevi l'appuntamento con storie del carnevale bellunese appuntamento condotto da Dino Brida e Francesca Valente un'ora in cui potrete fare un tuffo a livello storico sul carnevale che è stato protagonista e lo è tuttora ovviamente a causa di questa pandemia in modo più tranquillino ma comunque ovviamente il carnevale bellunese dal 1500 fino ai giorni nostri un appuntamento davvero da non perdere in diretta streaming attraverso il canale youtube dell'associazione bellunesi nel mondo oggi con inizio alle ore 18 è davvero tutto invece per Edicola Belluna a voi tutti un buon proseguimento di giornate in compagnia come sempre di Radio BM la web radio dell'associazione bellunesi nel mondo grazie a tutti